della musica, poco più giù la lotta quotidiana contro il virus, sul tetto dell'ospedale di Crema, è stato inaspettato. Le note di Mission di Ennio Morricone, suonate da Yoko Yama, arrivano a sorpresa per rendere omaggio al personale sanitario e ai pazienti di uno degli ospedali in prima linea nella lotta contro il coronavirus. Un modo per dare forza a chi sta combattendo, per ricordare chi non ce l'ha fatta, per confronto. Per un momento il virus smette di essere l'unico, per fare una foto, fare un gesto di amicizia. Presto il resto si dovrà tornare in corsia, ma sarà più facile ricordare che le sirene delle ambulanze non sono l'unico suono di questa città. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!